L'Istituto Superiore di Sanità ha messo in atto un'operazione chiamata SARI per creare una mappa aggiornata della circolazione del coronavirus attraverso l'analisi delle acque di scarico delle città italiane che escono dalle case e vengono convogliate attraverso la fognatura ai depuratori in modo da individuare eventuali focolai e zone di maggiore circolazione del virus. Dopodiché scatteranno interventi di allerta precoce e provvedimenti adeguati. Questo l'obiettivo del progetto SARI, acronimo di sorveglianza ambientale di SARS-CoV-2 attraverso i reflui urbani in Italia. All'Istituto Superiore di Sanità l'idea di utilizzare le acque di scarico come spia della circolazione del virus era partita qualche mese fa per risalire al momento in cui il virus è arrivato nelle città italiane. Le prime ad essere analizzate erano state Milano, Torino e successivamente Bologna. Si era così scoperto che nelle acque di scarico di Milano e Torino c'erano già tracce del virus SARS-CoV-2 a dicembre del 2019. Anche il gruppo AMAG di Alessandria ha deciso di aderire a questo progetto SARI per controllare l'andamento epidemico del Covid a livello locale. Per i prossimi mesi AMAG analizzerà le acque di scarico che escono dalle nostre case e che vengono convogliate attraverso la fognatura al depuratore degli orti. L'amministratore unico di AMAG Reti Idriche, Alfonso Conte, ha precisato che a proprie spese tramite laboratorio analisi interno l'azienda sta realizzando il campionamento delle acque reflue. Il prelievo dei campioni è già iniziato durante il mese di agosto e continuerà per tutto il tempo necessario per contribuire a tenere sotto controllo e sconfiggere l'epidemia Covid-19. Il presidente AMAG Paolo Robbio ha aggiunto siamo lieti di poter offrire il nostro contributo al progetto nazionale di sorveglianza ambientale SARI al fine di fornire una fotografia dinamica che possa consentire di prendere via via le decisioni più opportune in base all'evoluzione del fenomeno Covid.